Ciao a tutti amici nerazzurri, eccoci qua. Se la stagione 2021-2022 è finita, i video non lo sono affatto. Quest'anno finalmente è stato l'anno del ritorno allo stadio. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere spesso a San Siro e di partecipare anche a qualche trasferta. Oggi insieme andremo a vedere tutte le reazioni ai gol direttamente dallo stadio. Non mi perdo in altre chiacchiere, vi lascio il video. Buona visione. Stiglia! 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 Su a Stiglia! A Stiglia! Stiglia di destra un'intero, 5-0-0. Pazzegnato per voi, non il numero, 37, Irak. Stiglia! Stiglia! Pazzegnato per voi, non il numero, Style! 1-2-0, 2-0 Ciara con l'assist di Dzeko, l'assist di Dzeko, l'assist di Dzeko, l'assist di Dzeko, l'assist di Dzeko. Ciara con l'assist di Dzeko, l'assist di Dzeko. Dzeko, l'assist di Dzeko. Dzeko, l'assist di Dzeko, l'assist di Dzeko. Dzeko! 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 C'è l'alto Carlin, ma è orto giudo, c'è l'alto Carlin, orto giudo, ho segnato per voi il numero 23, Nicolò Morena, 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 Morena. Morena, 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 morena morenato, Nicolò Morena, 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 Morena! Non è tanto,�anculo aree, Dienz infatti che erano mai a 3 metà in un Online dialogo. Ha segnato la ripresa, ha segnato, ha segnato, ha segnato, ha segnato, ha segnato per voi, , birtino, l'ha segnato, v-e-ti-oh, 4 a 0! Ed in Gieco, manita! Caccia e champagne a Selsiro, vero dottorio e supermercato a noi. E basta, basta, basta. Asaliato per voi, con il numero 9, Ed in Gieco! 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 Eddie! Eddie! È troppo amare che non manca parriano mai l'anserano. Sì! È troppo amare l'anserano. È troppo amare l'anserano. È troppo amare, ragazzi. Eddie! Troppo facile, non piete niente, troppo facile, 6 a 0, 6 a 0. Geco, 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 6 a 0. Geco, 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 Ge Correa! 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 Go! Inter! Inter! Correa! 1-2-6 E' il Dupu! E' il Dupu! E' il Dupu! 2-0! E' il Dupu! E' il Dupu! E' il Dupu! E' solo 2! 7 minuti dopo! 2-0! Ha segnato per noi! 2-0! 19! Correa! 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 Mister! Mister! Correa! Mister 2-0! CELA! 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 Il GENICORI! Queeri GoLE! 1-1! si capisce niente 1-1, gioco ripartito il braccialetto di Valerio è gol il braccialetto dice che gol il braccialetto dice che gol il braccialetto dice che gol ha un minuto della fine del primo tempo il check è gol il braccialetto di Valerio e allora il 2-1 per l'inter andiamo adesso non so chi urlerà ma l'avrà capito? e infatti non urla nessuno ma è 2-1 per l'inter ci ha ripensato assedato e infatti non so chi urla nessuno non so chi urla nessuno per l'inter e infatti non so chi urla nessuno ma l'inter Dopo un mese, dopo un mese, dopo un mese, è il Toro, è il Toro, dopo un mese, dal 2 ottobre in Maglia dell'Azzurra, il Toro Martino, al sessantesimo, 3 a 1. Martino! 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 Bravo Toro! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Con il numero 10 è il Toro Lautaro Martínez! 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 e ora è veramente 1 a 0 1-1 inter. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori e a tutti i nostri spettatori. Sessi! 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 ha segnato per noi, con il libero 77. Marcello Bratovic, Ramai, Marcello Bratovic, Marcello Bratovic, Marcello, Bratovic, Marcello, Bra, bim! Voleone 2-0, colasso di passero breve. Oh, il Toro! Martínez! Il Toro! Martínez! 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 Vite 3-0, il Toro! Viva! E così dopo 3 minuti è una voce italiana, tutto nel razzurro. 1-0-1 Quarantesimo! 2-1 Dai, 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 dai! Viva Arco! Non so neanche che hai bisogno! Però l'importante è aver accorgiato! Dai! Non so neanche il primo tempo è venuto! Sempre fanno noi, due tiri! Un errore evidente di Debraio, ragazzi! Si è messo in salita, però... Non possiamo farcela, dai, 2-1! Non si educa neanche! Non si educa, signora! Si scalda da giro! Se è giusto per finire! 2-1! 2-1! 3-2! 3-2! 3-2! 3-2! 3-2! 3-2! 3-2! 4-1! 5-1! 5-1! 6-1! 5-1! 5-6! 6-0! 6-0! 6-0! 7-0! 6-0! Sì! 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 Andiamo! Andiamo! Sì! Andiamo! Sì! Andiamo! Sì! 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 Rieccoci qua, Supercoppa Italiana, Coppa Italia e secondo posto. Questa è stata la stagione nera azzurra, sperando che l'anno prossimo ci si possa ripetere per quanto riguarda i trofei e che si possa fare qualcosina in più in campionato. Questo era il nostro video delle nostre reazioni ai gol della stagione direttamente dallo stadio. Se vi è piaciuto mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate la campanella per seguire tutti i nostri video e tutte le nostre live, passate da tutti i nostri social che trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video o a una prossima live. Forza Inter! Grazie a tutti!